Mai accontentarsi e quindi massima attenzione a tutti i temi legati alla trasparenza, alla legalità, al controllo. Credo che sia evidente che noi non possiamo dare per scontato nulla e quindi tutte le volte che c'è da riflettere e anche da fare, adottare comportamenti sempre più rigorosi, sempre più forti sul versante della legalità e della trasparenza bisogna farlo, punto. E questo è l'impegno di tutti noi, è l'impegno anche di un grande tema come Expo. Non è un caso che proprio in questi mesi abbiamo veramente fatto il possibile per sviluppare tutti gli strumenti a disposizione per aumentare trasparenza, controllo, legalità e quindi io sono perché si va davanti con grande insistenza.